Alpenfest per celebrare i sapori e la bellezza della vallata di Livigno La festa della natura, degli animali e dell'impegno dei tanti allevatori che ci donano gusto e bontà di prodotti genuini Lo spettacolo della transumanza, la discesa a valle del bestiame dagli alpeggi Mine e Federia A Tre Palle e Livigno è andato in scena anche il campionato di mongitura e tosatura Mentre il MUS, il museo di Livigno e Tre Palle, è stato il palcoscenico dei lavori d'un tempo A conclusione della settimana dell'Alpenfest, la festa dell'agricoltura e mostra zootecnica Dove è stata premiata la regina della mostra, insieme alla passione e al lavoro dei tanti allevatori di Livigno Alpenfest, il sapore genuino della montagna di Livigno